Paolo Rachini, siamo ormai nell'imminenza dell'inizio della stagione con il ritiro. Intanto quali sono le ambizioni della squadra e poi anche quelle di Paolo Rachini che si affaccia da allenatore a questo campionato? Le ambizioni sono le stesse, quelle di Paolo Rachini e quelle della squadra, cioè di fare un campionato importante. Penso che ci siamo, come ho detto prima, siamo mossi bene sul mercato, abbiamo fatto acquisti di spessore quindi è normale che l'obiettivo principale è cercare di migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno che comunque è stato fatto un buon lavoro, una classifica importante, quindi quello che si chiede a Rachini è cercare di fare di più dall'anno scorso. Presidente, l'abbiamo capito, è ambizioso? Presidente, molto ambizioso, io non conoscevo veramente una persona squisita e già dal primo incontro mi ha fatto capire che comunque voleva fare bene quindi ho detto anche prima che è ambizioso come me, a me fa molto piacere e quindi ci metterò tutto me stesso per accontentare lui, la piazza e i tifosi perché poi alla fine bisogna coinvolgere anche loro facendo prestazioni importanti, giocando bene al calcio e facendo risultati. Soddisfatto della Rosa, è al completo in questo momento? La Rosa per il momento con gli ultimi due acquisti si è al completo, manca qualcosina a livello di under però cercheremo di chiudere in questi ultimi giorni qualche altra operazione. Ecco, nel bilancio di una stagione che sta comunque per partire, comunque dobbiamo calare quella che è la realtà attuale cioè di squadre, di blasonate che rischiano di cimentarsi nel campionato di Serie D e avranno un impatto notevole perché se doveste capitare in Gironi con o il nuovo Bari o il nuovo Cesena, insomma queste sono squadre che hanno grandissimo blasone. Sicuramente saranno squadre che poi faranno campionati importanti, quindi è normale che... però io penso che io la vedo dal lato positivo, quindi sarà uno stimolo non solo per me, per tutta la squadra e per tutta la gente che ci verrà a vedere. Ripeto, poi in campo si va sempre in 11 contro 11 e si deve sempre giocare la partita, però insomma io o Bari o Cesena comunque parliamo di realtà super importanti, quindi cambierà poco. Alla fine, ripeto, è l'atteggiamento con cui va la mia squadra in campo e quello è importante.